Musica E ben a tutti ragazzi e ragazzi sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video quest'oggi siamo nel primo episodio di una nuova serie che porterò per un po' all'interno del canale ovvero una serie che parlerà di alcuni glitch e penso che comunque suddividerò i vari glitch in serie differenti a seconda del gioco però questo poi lo vedremo mano a mano più avanti e quest'oggi parleremo come primo glitch ovvero di un glitch presente nei giochi di pokemon di prima generazione e quindi stiamo parlando di pokemon rosso e blu e di pokemon giallo e il glitch che andremo a parlare oggi è il glitch di misigno ovvero che è un pokemon glitch che è di tipo uccello normale e in pokemon e in pokemon rosso e blu mentre è il doppio tipo normale 999 in pokemon giallo è uno dei pokemon glitch più conosciuti però devo ammettere che allo stesso tempo è uno dei più facili da trovare e misigno ha cinque forme distinte che poi mano a mano andremo a vedere durante il corso del video allora il verso di misigno è comunque normalmente l'equivalente del gioco di un verso vuoto per così dire con valore esadecimale 00 basta pensare che il verso di un neuromaschio che di base è 00 però con un'intenzione di 0 è senza ego e quindi si può dire si può capire dalla base di dalla quale si basa alla fine e questo perché succede perché sono i versi di pokemon sono indefiniti nella struttura dati e quindi alcuni misigno tra di loro hanno comunque effettivamente versi differenti perché si ha utilizzati versi invalidi e quindi allo stesso tempo prende mischi versi o meglio pezzi diversi di altri pokemon i dati di misigno appaiono all'interno del pokedex solamente se il gioco non ha mai incontrato cubon tuttavia i come altri dati pokedex e pokemon glitch rimangono normalmente inaccessibili attraverso il pokedex quindi non penso non si può andare a vedere il pokemon all'interno del pokedex però questa è la decision fatta per pokemon rosso e pokemon verde dove messi il no può essere effettivamente registrato all'interno del pokedex e questo bug di contrasegno quindi di registrazione all'interno del pokedex può essere effettuato solamente se il giovedore attiva il contrasegno visto per il numero 152 attraverso altri glitch e se vengono visualizzati i dati di pokedex di missin no in questo caso verrà sentito il verso di riron seguito dai dati di missin no e soprattutto cosa molto importante nessun missin no può evolversi o imparare mosse attraverso l'aumento di livello ora possiamo vedere varie tipologie delle forme di missin no la prima è con una semplice la forma della classica la forma normale di rosso e blu e come ricordiamo la prima questo è un glitch di tipo uccello normale in questo in questo gioco in questi due giochi e il suo sprite è uno strano blocco di pixel glitch a forma di l all'incontrario che però vi mostrerò o di qua o di qua ora vedo dove c'è spazio e comunque ora dato il grande numero di missin no che con questo sprite questa è comunque la forma più nota e questa forma è esclusiva di pokemon rosso e pokemon blu abbiamo successivamente un'altra forma normale però di pokemon giallo che ci ricordiamo che in pokemon giallo il doppio tipo è normale 999 questa forma normalmente utilizza la palette di pikachu quindi appare come un quadrato appare come un semplicemente un quadrato e formato fatto da quadretti rossi e gialli e glicciati quindi come il pokemon quindi pikachu tutto glicciato in tutto glicciato questo diciamo in questo caso sia un un glitch normalmente in pokemon rosso e blu non sia poi abbiamo tre tipi di forme ovvero la forma le due forme fossile quelle di cabotox e quelle di aerodactyl e infine la forma del messigno fantasma questi comunque sono conosciuti anche come messigno speciale e sono tre forme uniche di messigno che condividono rispettivamente gli spread del fossile di aerodactyl che contiene che contenono al museo della scienza di plume e ovoli il fossile di cabotox e con quello dei fantasmi della torre pokemon diciamo questi sono messi in no speciali per così dire che sono anche se sono presenti sia in giallo che in rosso e blu titolo comunque di sprite di rosso e di blu però andiamoli ad analizzare in modo singolo la forma del fossile di cabotox e diciamo come ho detto prima utilizza il cabotox lo spread di cabotox che si trova al museo di plumeopoli e ha un numero dell'indice 182 esadecimale b6 questa forma possiamo ottenerla attraverso il glitch dell'anziano se il se e solo se la lettera w è il carattere nel terzo quinto settimo slot del nome del giocatore quindi possiamo ottenerlo solamente se appunto in questo caso all'interno del giocatore c'è presente la w nel terzo nel quinto nel settimo posto oppure possiamo anche utilizzare il glitch di mio avendo un proprio mondo con statistiche speciali di 182 però la stessa cosa possiamo ottenerla con il glitch di PS se si ha come statistica PS il numero 182 quindi con lo stesso valore possiamo utilizzare due glitch per avere la formula la forma fossile di Aburo come Miss Inno e questa forma può anche essere utilizzata con il glitch della guardia di Yodo però poi se successivamente lo scambiamo in giochi più recenti scopriamo che il pokemon scambiato è Pupitar quindi questo pokemon glitch con l'indice 182 è proprio Pupitar che devo ammettere non diciamo non mi aspetta una cosa del genere allora poi passiamo alla forma fossile di Aerodactyl come già come stessa cosa del detto con forma fossile di Caburo questa forma utilizza lo sprite del fossile aerodactyl presente nel museo della scienza di Prumbe Obili e ha come numero d'indice 183 e 16 male B7 se questa si potizza anche in questo caso come il terzo glitch dell'anziano il glitch di Mio e il glitch dei PS quindi mentre col glitch dell'anziano con Caburo c'è un missignore di forma Caburo serviva ad avere la lettera W come alla posizione terza quinta o settima in questo caso la lettera che dovrà essere la posizione terza quinta o settima sarà la lettera X mentre con le glitch di Mio dobbiamo avere come statistiche speciali il NUM valore 183 e non 182 e mentre per le glitch di PS dovremmo avere statistica PS col valore sempre di 183 e questa forma può essere ottenuta sempre con le glitch da guardia di Iodo e se il problema è scambiato avremo un Taranitar poi c'è l'ultima forma ovvero la forma fantasma ovvero che questo messino utilizza la forma dello sprite dei fantasmi presenti nella torre pokemon quando che appare quando il giocatore non ha la spettrosonda e ha come indice il numero 184 il decimale B8 questa forma può essere anche in questa utilizzata attraverso i glici di anziano i glici di mu e i glici di PS allora bisogna posizionare la lettera Y e valore al carattere numero terzo quinto è settimo e le glici di mu deve avere statistiche speciali valore di 184 e per le glici di PS avere statistiche di PS pari a 184 questa forma può essere ottenuta anche con le glici della guardia di Yoto e se scambiato avremo un Lugia e però questo questo missing no ha un glitch in più da poter sfruttare per ottenerlo quindi però in questo caso dobbiamo sembrerebbe diciamo più complesso e non è detto che utilizzerà lo sprite del fantasma perché possiamo far evolvere diciamo questo sfrutta due più che altro altri due glitch ovvero il primo glitch del punto pokemon quindi però scritto punto pkmn in alternanza lettere maiuscola e minuscola e il e il pokemon z diciamo questi sono altri due pokemon grigio poi successivamente nei prossimi video parlerò e si possono fare questi due pokemon facendosi evolvere a livello 224 si evolveranno in questo missing no però non è detto che otterranno lo sprite del fantasma quindi questi diciamo sono il i vari messi no che abbiamo però questo non è che porterà nel gioco tutte cose rosa e fiore perché porterà anche altri glitch che sono proprio causati all'interno di questo per catturare proprio questi pokemon però sia chiaro li possiamo anche incontrare e non catturare in questo caso non si avranno altre percorsioni all'interno della cartuccia quindi basterebbe spegnere e accendere il gioco e si sta abbastanza tranquilli quindi abbiamo come primo glitch e in battaglia si ha il glitch della duplicazione degli oggetti che aumenta di 128 unità il sesso oggetto nella borsa del giocatore a meno che la quantità che si ha non sopra il valore 128 e quindi questo sarebbe comodo più che altro per le varie caramelle rare che uno potrebbe avere incontrare mesi no però può interferire con i dati di gioco in vari modi come ad esempio corrompendo i dati della sala d'onore e quando un allenatore lotta con un pokemon dopo aver visualizzato lo sprite di missing no sia lo sprite di allenatore che quello dei pokemon saranno scombinati e tutti gli altri sprite verranno invertiti quindi vi salire invece il pokemon giallo la cattura di missing no spesso causerà la comparsa di numerose copie o di altri png camminanti per lo schermo io ovviamente vi passerò da qualche parte le varie immagini di quello che causa il missing no poi il missing no però comunque può essere scambiato da rosso blu e giallo ma non può essere portato attraverso la tempo capsula in oro e argento in giallo missing no scena l'ello 1 si ottiene punti esperienze non può aumentare di livello l'unico modo per mantenere missing no l'ello differente è usare un cavo link tra i due giochi nei centroscambi a causa della sua caratteristica di poter avere un numero o di avere uno fra 39 numeri di indici differenti missing no può apparire come numerosi pokemon di seconda generazione e quindi questo fa pensare che i vari missing no siano effettivamente i vari pokemon introdotti di in seconda generazione successivamente dalla game freak infatti se andiamo a contare i vari pokemon di seconda generazione ora vi dico diciamo vengono introdotti all'incirca 39 in totale vengono introdotti 109 pokemon però vengono introdotti 39 pokemon che sono evoluzioni o pre-evoluzioni di pokemon già esistenti in prima generazione e casualmente in prima generazione i missing no sono proprio 39 quindi questo è il diciamo il missing no che diciamo che per ora conosciamo meglio gli unici esistono spero comunque questo video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando di mettere un bel mi piace di iscrivervi al canale di seguirmi su twitter e facebook e ovunque voi vogliate mi raccomando scrivi un commento per farmi sapere se questo tipologia di serie vi possa piacere mi raccomando il pollice in su io vi saluto ciao a tutti voi iscriviti al canale